Siamo un'associazione di tutele ambientale con la quale ripuliamo le spiagge del litorale gelovese. Quest'anno in onore del World Cleanup Day abbiamo organizzato un evento di pulizia presso la spiaggia che vedete alla mia spalla di Piazza Lecenne di Agenova. Abbiamo anche organizzato un evento in contemporanea su Roma. Oggi abbiamo avuto un'affluenza di circa 150 persone. Siamo riusciti a tirare su un numero indescrivibile di materiali ingombranti e non solo. I sacchetti che abbiamo raccolto sono un numero veramente alto. Per noi è importante non solo ripulire l'ambiente. Una delle parti più importanti che cerchiamo di insegnare è il rispetto all'ambito marino. Come dico sempre a tutti i volontari e le volontarie che partecipano, ricordatevi che siete degli eroi e delle eroine e vi siamo eternamente grati. Grazie. Grazie.